Buongiorno, stamattina mi sento un artista e quando ho la vena d'artista, cioè, non lo so se mi avrebbe mai capitato, però mi sento un po' un artista, sì, sono un artista così snob, sì. Eccola. Quando mi sale la vena d'artista riesco a fare delle cose molto belle, ma molto molto belle. Mi sento un artista, ragazzi, sono un artista, e gli artisti fanno determinate cose nelle opere d'arte, e io lo sto facendo. Qua la mia opera d'arte, ma manca ancora una cosa, sì, manca una cosa. E' un art attack. Ma manca che cazzo! Ma guarda qui, ma guarda! La tazza no! La tazza no! La tazza no! Ma metti i c***i! No, la tazza no! Stai a me e vattene! E' un artista! Ah! Ah! Questa qui! No! No! Non c'è un'altra cosa! No! Stai a me! La tazza no! Ma è un artista! Ma vai a fare il c***o! E' un artista! Ah! Buongiorno! Buongiorno a sto c***o! No! Ma è un art attack! E' un art attack! Ehi! Ehi! Tara! Quanti ricordi art attack? Scusa, dove devo andare? A pancuno! No! Sì! Sì! Dove andare? A pancuno! Oh! Adesso sì! 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 E' venerdì tutti insieme! Probabila! Wow! Wow!